L'estate è da tempo iniziata e sul lago di Caldonazzo i bagnanti hanno apprezzato la nuova spiaggia con la casetta a sede dei pescatori inaugurata poco tempo fa. Alla Valcanover 1 sono stati liberati 30 metri di canneto per permettere ai bagnanti di scendere in acqua, dando loro la possibilità di conoscere attraverso un apposito cartello lo stato del fondale nei pressi della riva del lago. Il taglio del canneto insieme con quello di alcune grosse piante in riva al lago sono state lasciate cadere in acqua per permettere ai pesci di trovare dimora e deporre le uova tra i rami. Inoltre sulla spiaggia è stata tagliata l'erba e sistemato il bordo con la recinzione in legno che delimita i posti auto a pagamento. Gli interventi di inerbamento e sistemazione radicale dell'area saranno effettuati l'anno prossimo così come le modifiche al pontile per aumentare il numero degli attracchi delle barche. La spiaggia è libera ma comunque sorvegliata dal bagnino di spiagge sicure e dotata di servizi igienici presenti nella casetta dei pescatori e accessibili a tutti. Grazie. 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 Grazie.